Parola subito ad Antonio Arcidiacono dell'European Broadcasting Union per il suo keynote speech. Grazie Arcidiacono. Grazie. Per questo keynote speech sono voluto partire da cosa è successo negli ultimi tre anni e cosa abbiamo imparato, se abbiamo imparato qualcosa. Ovviamente ci sono stati dei problemi, conseguenza del covid, conseguenza della guerra nella quale ancora siamo purtroppo immersi in un modo o nell'altro. Queste conseguenze sono ovviamente conseguenze negative ma l'evoluzione apre anche opportunità, possibilità di interpretare in maniera nuova e sviluppare nuovi prodotti e servizi. Magari capendo meglio quello che stiamo facendo e quello che non abbiamo forse capito totalmente perché le situazioni estreme in certe situazioni sono utili per fare una specie di esame di coscienza e dire ma di cosa stiamo parlando. Comincio quindi dall'Ucraina e cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato delle cose molto brutte e molto violente che però portano a delle considerazioni. Quando a Mariupol i poveretti che stavano nell'acciaieria sepolti lì e non ricevevano informazione, la cosa che li affliggeva di più era il fatto di non sapere cosa stesse succedendo intorno a loro. E questo come ha scritto e non ripeterò quello che sta scritto qui nelle slide, l'ultimo giornalista, l'ultimo reporter di Associated Press che stava a Mariupol e che è scappato prima di farsi acchiappare ha detto queste cose molto significative per noi che ci occupiamo di informazione. L'assenza di informazione in una situazione come quella di Mariupol ha due obiettivi. Seminare il caos e creare una forma di impunità per chi sta facendo dei terribili delitti. Queste due cose messe insieme sono il motivo fondamentale per cui chi attacca, chi fa la guerra cerca di distruggere le infrastrutture di informazione. Bene, noi abbiamo cercato di aiutare i nostri membri del UEPBC che sarebbe il broadcaster pubblico, la RAI locale dell'Ucraina e lo abbiamo fatto rimettendo in pista, loro lo hanno fatto, noi li abbiamo solo aiutati, tutti i sistemi di broadcasting esistenti a partire dal broadcast in onde corte che era l'unico modo per essere sicuri che l'informazione arrivava perché i trasmettitori terrestri venivano bombardati, le onde corte le trasmettevamo da Londra, dalla Polonia, dalla Germania da tutti i trasmettitori che erano disponibili. Abbiamo disperatamente cercato un trasmettitore onde medie di alta potenza non lo abbiamo trovato perché in Europa non si usa più. Questo per dire due cose. Uno, che il broadcast è e rimane l'unico modo per raggiungere l'intera popolazione nelle situazioni di emergenza e questa cosa è una cosa di importanza capitale e non vale solo nel caso della guerra, vale anche agosto del 2021 in Germania, c'è stata un'inondazione per 17 ore le reti cellulari non hanno funzionato perché dopo un'ora le batterie sono andate giù e non c'era più connettività l'unica sorgente di informazione erano le reti di broadcasting perché trasmettevano da torri alte con sistemi di alimentazione protetti eccetera. Questo significa che se io voglio raggiungere la popolazione devo combinare come sempre la cosa che devo fare le reti di broadcast con le reti interattive, con le reti unicast. La verità è che i sistemi sono sicuri e resilienti solamente quando si combinano le infrastrutture. Se io metto tutte le uova nello stesso paniere quando il paniere si sfonda faccio la frittata. E questa cosa vale sempre, ce l'hanno insegnata all'università, se io cerco di servire tutti i bisogni che ho con un unico sistema, siccome la dinamica dei servizi che devo fornire è molto ampia, avrò un sistema subottimale per tutte le applicazioni. Quindi lezione numero uno che viene dalla guerra in Ucraina è che il broadcasting è fondamentale e non possiamo vivere senza il broadcast. Passiamo alla pandemia. In una recente dichiarazione del segretario generale delle Nazioni Unite, il segretario generale ha sottolineato il fatto che l'uso dei social media sta isolando le persone e c'è una tendenza forte a portare le persone ad avere un rapporto unicast con l'informazione. Per cui io ricevo l'informazione che è tagliata su di me e si parla di bolle di informazione. Rimango chiuso in questa bolle informazione. Antonio Gutierrez dice qualcosa di molto più forte. Dice che questo modello di chiudere le persone in delle bolle di informazione crea, e la monetizzazione che va insieme a questo, crea uno stato di isolamento che porta alla negatività, che porta all'isolamento, che spacca la società. Questa cosa è una cosa su cui noi dovremmo riflettere, e noi in particolare i public service providers, ma tutti quelli che fanno informazione, che fanno media. Perché il concetto di media è nato dal fatto che io invio dell'informazione e cerco di avere questa informazione disponibile allo stesso tempo per tutta la popolazione, in modo tale che si crei una serie di argomenti, di soggetti, di discussione, che creino accumulazione, che creino connessione sociale, che permettano alla gente di trovare punti di contatto e non punti di scontro. Questo è il ruolo dei media e non è quello di andare a chiudere le persone, ognuna delle persone in una piccola scatola. Questa capacità di costruire comunità, questa capacità di aiutare la gente a vivere insieme, è una delle cose che forse piano piano stiamo dimenticando. Il Covid ci ha aiutato in questo senso perché ci ha chiuso a casa, ognuno stava per i fatti suoi e ognuno si guardava il suo Netflix e basta così. Non è vero perché i cittadini hanno risposto guardando ancora di più i canali di broadcasting perché avevano bisogno di informazione, perché avevano bisogno di sapere che la sorgente di informazione era una sorgente affidabile. Questo fatto ci dice ancora una volta che la vera soluzione è sempre nel combinare le tecnologie, combinare le fruizioni ed avere da una parte la personalizzazione che l'internet permette di avere e dall'altra parte la diffusione che i canali di broadcast permettono di avere, in modo tale che io posso fornire un'informazione aggregante e posso fornire un'informazione personalizzata e quindi posso fare crescere la società. In fondo la società è cresciuta perché ci siamo sempre condivisi dell'informazione e siamo cresciuti perché non ero solo io che dovevo scoprire qualcosa ma poteva essere il mio vicino che la scopriva insieme a me. Ricordo un mio cugino che faceva il direttore di una grossa fabbrica a cui non piaceva il calcio per niente, tutte le mattine del lunedì prima di andare in fabbrica si comprava il corriere e se lo studiava perché dice io devo avere un argomento di cui parlare con le persone che lavorano per me perché se no se vado lì sono un alieno e nessuno capirà che io non mi interesso di calcio. Questo per dire che l'argomento comune è una cosa importante. In questo senso l'arrivo di nuove tecnologie come il web 3.0 rappresenta un'opportunità interessante perché lo possiamo interpretare come un'ulteriore evoluzione verso la chiusura in una bolla oppure lo possiamo utilizzare visto che c'è un rapporto bidirezionale possibile con l'utente come un'opportunità per trasformare l'utente in un azionista di chi fornisce informazione, in un attore attivo e non solamente passivo. Quindi nel caso di specie l'obiettivo è quello non di chiudere le persone dentro un oculus con il mio visore che mi chiude qui e non mi fa vedere più neanche chi ho intorno, personalmente non ci credo per un secondo, sono vecchio, lo ammetto e fa parte dell'anagrafe quindi non posso negarlo, a me dopo dieci minuti o un quarto d'ora mi viene il mal di mare il visore messo così sugli occhi, ma dubito fortemente, anche perché è già successo, sono trent'anni che ci si prova e non ci si riesce, dubito fortemente che questo diventerà grande pubblico come fruizione. Quindi questa è l'evoluzione che non mi piace, quello che invece potrebbe essere interessante è che questo nuovo universe sia un universe dove cerco di sviluppare la socialità, aumentare le interazioni sociali, combinare l'esperienza reale con quella virtuale ed è possibile farlo grazie alle nuove tecnologie e quindi perché non fare questo piuttosto che chiudere la gente dentro delle bubble? Interessa a molti che conosciamo, probabilmente non interessa chi fa broadcasting storicamente. Ecco perché ripeto, il broadcast e l'online sono due tecnologie che devono andare insieme, per questo motivo è fondamentale continuare a difendere le infrastrutture, le risorse che forniscono i servizi di broadcast. Qualcuno recentemente, e molti, hanno detto non serve più il broadcast, smantelliamo le infrastrutture, non servono a niente. Ecco, quello che ho appena detto secondo me va esattamente nella direzione contraria. Io non credo alle soluzioni uniche e come ho detto non è che non ci credo io perché l'ho deciso io, se l'ho deciso io non serviva a niente, ma sono le leggi della fisica che ci dicono questo. E quindi quello che dico è usare le leggi della fisica là dove funzionano meglio. Se io devo trasmettere la partita di calcio della mattina, e come succede in Italia in questo momento, ci sono un milione di persone quasi che se la guardano sul telefonino, un milione di persone che guardano in streaming sul telefonino, cioè sto usando un milione di risorse di rete cellulare per trasmettere lo stesso contenuto. Non è molto intelligente come soluzione, non è una soluzione che usa le leggi della fisica e purtroppo le leggi della fisica non si stancano, cioè prima o poi si paga la fattura, stanno lì e non cambiano. Quindi questo per dire che combinando i vari layer, il satellite, il broadcast terrestre, le reti cellulari insieme, e oggi lo possiamo fare perché abbiamo l'IP, perché abbiamo la 5G, si può fare in maniera completamente integrata e invisibile per l'utente. E fra l'altro si permette di garantire la qualità del servizio ad un costo sostenibile. Quindi questa è la direzione in cui dovremmo andare. Vedo che già il mio contatore va avanti, quindi cercherò di andare più veloce. Questo, come ho detto, si può fare in maniera tecnologicamente trasparente. Qui c'è uno schemino un po' troppo difficile da spiegare in due secondi, ma che dice che si può mettere insieme broadcast e multicast con l'unicast in maniera totalmente trasparente e per l'utente finale. Volevo parlare anche di Web 3.0, non so se avrò il tempo per farlo, ma perché è importante, si possono attrarre nuove generazioni, si possono sviluppare connessioni sociali, come ho detto, si possono costruire nuove comunità, si può trovare anche un nuovo modo di finanziare il sistema, perché è un sistema che permette tutta questa interazione, permette anche di trovare nuovi modi di finanziamento. Si può in questo modo, visto che sta ripartendo una nuova generazione, essere meno sottoposti alle grosse piattaforme e ancora una volta usare le leggi della fisica. Qui quello che voglio dire è che non credo che il metaverse a un gigabit al secondo per ogni utente potrà essere veicolato attraverso la rete fibra, perché significa che il mio access network dovrà avere da 50 a 100 gigabit al secondo. Si può fare, ma bisogna smantellare tutto e ricominciare. E poi non ha senso, io posso mandare l'environment in broadcast e posso avere interazioni in unicast e sfruttare le due tecnologie nello stesso modo. Qui spiegavo come si potrebbe fare questo metaverse, così è fisco, perché ho visto che il tempo è finito. Dando un esempio pratico, stiamo lavorando e in questo momento le partite del campionato in Qatar, alcune sono prodotte in maniera volumetrica, con un centinaio di telecamere che riproducono tutto l'ambiente 3D e io posso navigarci all'interno. Il segnale composito di questa cattura è un segnale che ha un po' meno di 2 gigabit al secondo. I satelliti di nuova generazione sono capaci di mandare 2 gigabit al secondo a direct to home. Perché non usare i satelliti per fare un overlay per fare il broadcasting e riprodurre una situazione che era quella degli anni 90 in cui il satellite sapeva fare cose che non sapeva fare nessun altro. Poi è arrivato l'internet, è arrivato tutto il resto. Poi si è fermato e non si è fatta ulteriore innovazione. Oggi questo si può fare. Finisco con questa sfida dicendo le idee ci sono, le possibilità tecnologiche ci sono, le opportunità esistono, proviamo a sviluppare qualcosa di nuovo. Grazie. Grazie. Grazie ad Antonio Arcidiano.